che ha detto una cosa molto semplice, molto elementare ma molto efficace, vogliamo vedere sino a che punto la nostra crescita in Europa arriva, abbiamo visto dove è arrivato. Adesso noi abbiamo fatto una disamina, è anche giusto farla per i nostri spettatori insieme sulla partita di mercoledì, però la Juve è prima in campionato, domani c'è una gara molto 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 importante, bisogna vedere se c'è qualche scoglie di quello che è successo o se questa Juve continua la sua cavalcata tranquillamente, Evelina dice non vedo crisi del centrocampo, vedevi però di più qualche problema davanti. Insomma, che si facciano meno gol e che si sprechino tante occasioni credo che sia sotto gli occhi di tutti, insomma, a parte che abbiamo Giovinco e Ventura, sì, mi manca Giovinco, non sei mancato, ti hanno dominato a centrocampi, hai ragione, dà per tutte, l'attaccante sono vicere per gol, non ti fanno mai gol, poi hai ragione a dire che dall'inizio del anno che quando abbiamo una vacanza, il discorso è tanto che c'è a domani, che è quello che adesso ci interessa, non si è ancora capito con chi gioca davanti, mi pare. Non l'hanno ancora detto, ma gioca infortunato, quindi giocheranno a Vucine e Cermatri, penso, a occhio. Non ci interessa. Vucine e Cermatri.